Questa mattina ci troviamo a Gabice davanti all'hotel Michelacci per assistere alla sottoscrizione di un accordo tra gli albergatori del territorio e l'azienda It's Benchmark che garantirà loro dati utili sull'andamento turistico in vista dei prossimi investimenti e strategie di marketing. Questa mattina è una mattina molto importante perché finalmente in una destinazione come la nostra, Gabice Mare, presenteremo un progetto nel quale un gruppo di albergatori ha dato la disponibilità di mettere a disposizione i propri dati delle proprie strutture, unirli insieme, aggregarli e con un software che si chiama It's Benchmark riusciamo ad avere delle proiezioni su quelle che sono gli andamenti della nostra destinazione, su quelle che sono le previsioni dello stato dell'avanzamento delle prenotazioni rispetto agli anni precedenti, la tipologia di clientela che prenota, la tipologia di trattamento che il cliente prenota. Quindi diciamo che ci permette di avere una visione molto più completa di quello che è lo stato d'avanzamento del nostro lavoro e di conseguenza ci permette di ragionare in termini strategici molto più approfonditamente. Conoscendo quello che è l'andamento delle nostre prenotazioni rispetto alla destinazione, rispetto a un set di competitor, diciamo che riteniamo nostri competitor anche se siamo tutti amici e tutti colleghi e lavoriamo tutti per la stessa destinazione, avere un dato che ci permette di capire se la nostra struttura è più avanti o più indietro rispetto alla destinazione ti fa ragionare in maniera molto più consapevole su quelle che sono le azioni che normalmente facciamo per portare i clienti nelle nostre strutture. Siamo molto onorati di aver potuto realizzare questo progetto, grazie proprio al coinvolgimento di Visit Gabici che ci ha dato l'opportunità di intercettare le informazioni che prevengono in tempo reale dalle PMS, dei software gestionali di più di 20 strutture, creando fin da subito un dato molto rappresentativo con un campione che rappresenta più del 50% delle strutture della destinazione. Tutto questo permette alla destinazione di portare delle informazioni in tempo reale sulle quali poter basare tutte le strategie di promozione e anche perché no di programmazione eventi e poi le strutture ricettive di comprendere bene il loro posizionamento nell'ambito del mercato della destinazione, trovare pronta risposta a capire le cose, quando vanno bene, se vanno bene perché è il mercato che sta andando bene o altre situazioni che magari riguardano particolari momenti della stagione, poter trovare riferimento che effettivamente quei tipi di problematiche non possono essere risolte a livello di singola struttura ma sono diciamo delle lacune del mercato da colmare tramite strategie non di singola struttura ma di destinazione. Tutta questa consapevolezza può orientare bene le strategie commerciali, le strategie di promozione e perché no anche le strategie di investimento che singoli operatori e destinazione possono appunto intraprendere per migliorare le performance. Gabizio è stato all'apripista in tutte le marche per quanto riguarda la raccolta di questi dati e al loro fianco come main sponsor Riviera Banca. Si tratta di un progetto diciamo così di area che investe il territorio e quindi un istituto del territorio come Riviera Banca non poteva non esserci. Tra l'altro siamo particolarmente contenti di aderire perché come non sempre accade le istituzioni, il pubblico, il privato e le associazioni di categoria riescono a lavorare insieme mi verrebbe da dire in maniera virtuosa. Grazie. 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 Grazie.